La crisi finanziaria che diventa economica, che diventa delle famiglie, che diventa delle imprese, è una crisi che poi diventa politica, è una crisi che ha anche radici culturali, antropologiche. Come si esce da questa crisi? È chiaro che va ripensato il modo di essere nella società moderna. Bisogna fare appello alle risorse più vere dell'uomo, la sua capacità di lavoro, la sua capacità di impegno, il non calcolare più in maniera totalizzante i privilegi o i piccoli vantaggi che ci si è conquistati nel corso di un'epoca. Siamo veramente entrati in un'epoca nuova. Sono anche i frutti negativi della globalizzazione. La globalizzazione ha tanti effetti positivi, ma ha anche effetti negativi che picchiano in maniera particolare sull'Europa e sull'Italia e dai quali appunto dobbiamo capire che si esce con una rivoluzione nel modo di essere anche umano, anche culturale, anche antropologico. La crisi è il momento in cui si rifanno i conti a livello mondiale. Enorme spostamento di potere e di finanze. L'Europa è l'anello debole della catena. Paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna sono gli annelli deboli dell'anello debole. Vanno normalizzati. È chiaro che occorrono dei governi che eseguano gli ordini di Germania e Stati Uniti e non ci vogliono troppi impedimenti di una democrazia partecipata, per cui l'eliminazione della partecipazione dal basso, delle esperienze di autogoverno, delle autonomie italiane è un'eccezione che va almeno temporaneamente sospesa, che va spenta. Ecco, uno dei motivi più profondi e non detti di questo accanimento contro comuni, province, regioni. Ci sono privati che vogliono andare all'attacco del sistema sanitario lombardo per fare un'attacco profitti più alti. Tante volte si è detto che la Lombardia è la regione dove la sanità privata è privilegiata. Non è affatto vero, anzi è vero il contrario. Innanzitutto ci sono sei regioni che hanno una percentuale di presenza privata in sanità più alta di regione Lombardia. Noi siamo al settimo posto e diverse di queste regioni sono governate dal centro-sinistra. In secondo luogo, proprio perché noi siamo stati i primi a partire, abbiamo perfezionato il sistema, i profitti che le aziende sanitarie e private in Lombardia fanno sono estremamente ridotti, proprio perché abbiamo stimolato un regime di concorrenza per cui sono costretti, hanno evidentemente un guadagno, altrimenti il privato non farebbe, ma devono dare a noi dei servizi di qualità, altrimenti noi non li acquisteremmo per darli ai cittadini e hanno una concorrenza sui prezzi tra di loro. Le grandi industrie private della sanità che lavorano nelle altre regioni realizzano i profitti molto più alti. Il Palazzo Lombardia non soltanto è un bel palazzo, ma è un esempio di efficienza. Tutto il governo ragionale ha radunato in questo palazzo, quindi una semplificazione di vita enorme per le imprese e per i cittadini. Un risparmio, perché prima pagavamo gli affitti in 26 sedi decentrate, adesso non paghiamo più questi affitti e la rata di ammortamento annuo è inferiore di 6 milioni agli affitti che pagavamo, 6 milioni all'anno che risparmiamo, non pagando più gli affitti li abbiamo tutti messi nelle politiche sociali. Per di più questo palazzo è stato insignito dall'Accademia degli Edifici Alti di Chicago del titolo di miglior grattacielo europeo dell'anno 2012 e tutto questo l'abbiamo fatto attraverso un ente pubblico, quindi risparmiando. L'Expo nel 2015, quindi speriamo di essere definitivamente usciti dalla crisi, sarà la grande occasione di rilancio, la grande occasione in cui Milano, la Lombardia, l'Italia intera salgono in passerella, si mostrano al mondo intero e ho l'orgoglio di dire che tutte le infrastrutture presenti nel progetto Expo già fin dal 2008 saranno pronte perché stanno proseguendo in orario e quindi nel 2015 l'accesso a Milano e al sito espositivo sarà come l'avevamo voluto e progettato nel dossier di presentazione dell'Expo nel 2007-2008. Ho avuto la fortuna in questi anni di avere attorno a me dei dirigenti di regione Lombardia e dei dipendenti appassionati, intelligenti, competenti, per cui abbiamo potuto veramente fare dei miracoli. Quindi mi auguro che i miei successori, i miei successori, i successori, la maggioranza qualunque essa sia sappia valorizzare il tanto di bene che c'è dentro e poi ognuno porterà anche le innovazioni che riterrà opportuno portare. La politica deve dare spazio all'iniziativa della persona, deve sostenere l'iniziativa della persona, non deve mai sostituirsi all'iniziativa della persona. C'è ancora moltissimo da fare a livello nazionale ed europeo perché questa ottica della sussidiarietà si imponga. Il giorno più bello è stato quello in cui inaspettatamente anche per me siamo riusciti a far passare il buono scuola che poi avrebbe dato origine alla dote scuola. Questa perché per anni in tutta la mia carriera, in tutto il mio lavoro politico e anche prima di far politica, la libertà di educazione era stato uno dei miei cavalli di battaglia, convinto che appunto la libertà e la libertà di educazione siano un pilastro fondamentale di civiltà. Eravamo riusciti a tradurre in pratica uno dei grandi ideali che ci ponevamo.